Hello to you guys. Let's listen to the Bones TV Show Season 1 Episode 1 Italian Subtitles. And go through some interesting expressions. Questa è l'ultima chiamata per l'imbarco del VORU 416 con servizio. Sono in ritardo. Questo tabellone è rotto. In questo momento il tabellone degli arrivi è rotto. Qualcuno sa del volo dal Guatemala? Aviateca Airlines? Quale cancello? Sono in ritardo. Mi scusi. Avete un computer guasto al tabellone degli arrivi? Salve, signore. Mi scusi. Fantastico. Ciao. Il volo dal Guatemala. Dimmi che hai prima fatto un tentativo con mi scusi. Dolcezza. Sì, l'ho fatto. Bentornata a casa. Oh. Sei sfinita? Il Guatemala era orribile? Terribilmente arretrato? Ciononostante non mi sono mai ridotta a mostrare le mie tette per avere informazioni. Ultima chiamata per l'imbarco. Final boarding call. Tabellone è rotto. Board is broken, meaning the arrivals board. Quale cancello? Which gate? Il volo dal Guatemala. The flight from Guatemala. Ok. Now a few fun ones. Dolcezza. Sweetie. Ciononostante. And yet, or nevertheless. Non mi sono mai ridotta a mostrare le mie tette per avere informazioni. I was never reduced to flashing my boobs for information. Ok. Let's listen for the next part. Le hai mostrate per qualche ragione divertente? Sono stata letteralmente immersa fino al collo in una tomba di massa. Non è romantico. Certo tuffandosi a capofitto in una fossa di cadaveri non c'è certo modo di spassarsela. Angela, niente di quello che io e Pete abbiamo mai fatto era spassoso. Allora non stavate facendo la cosa giusta. Signore, perché ci sta seguendo? Aggressione. Sicurezza. Aiuto. Chi sorveglia quest'aeroporto? Prendilo a calci nel culo. Indietro. Adesso. È lui che ha attaccato me? Io sono della sicurezza interna. Oh. C'è stato un piccolo equivoco. Potete mettere via le pistole. Cosa? Vi dà gli ordini lei adesso? No. Sono io che dico quando potete abbassare le armi. Mi dia la borsa. È di questo che si tratta? Sono la dottoressa Temperance Brennan. Sono stata in Guatemala per due mesi, ad identificare le vittime di un genocidio, incluso lui. Molte persone in questa situazione, suderebbero. Guatemala? Genocidio? Chi si spaventa dopo questo? Sa chi non si spaventa mai? Sociopatici. Ok. What do we have here? Let's take a closer look at some of the expressions. Sì nel collo. Deep, knee deep, up to your neck. Tuffandosi a capofitto. Dive in head first. Spassarsela. Have a good time, have a night out. Prendilo a calci nel culo. Kick his ass. C'è stato un piccolo equivoco. There's been a little misunderstanding. È di questo che si tratta? That's what this is about. Ok. That's it for today. You can listen to these dialogues repeatedly and make sure you understand everything and pick up some new expressions. Tu 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 Grazie a tutti.